Ciao ragazzi, benvenuti a Rockin'Hydro! Grazie! Molto grazie! Grazie a tutti! Abbiamo provato un paio di anni fa Sì, esattamente! Vogliamo parlare di più sull'epoca e questo? No, abbiamo provato di giocare, ma è raiato! Ah, sì! Siamo felici di poter fare questa volta! Esattamente! Quindi magari questa volta ci ha dato più energia, come la doppia energia? Sì, ovviamente! Siamo salvati! In rechargare le batterie! Esattamente! Esattamente! Quindi era la prima volta in Italia? O avevi già giocato? Abbiamo giocato 100 volte in Italia! Wow, è fantastico! Quindi come senti l'italiano? Abbiamo amato in Italia! Sì, in particolare in Bologna, abbiamo giocato da anni fa in 1997, con la riflessione. E' vero? Kennet Anderjohn, un buon svetico giocatore. Kennet Anderjohn? Kennet Anderjohn! E' vero in Bologna, non? Si, si! E' stato sul nostro guest liste in derasciata in 1997, ma non è mai raiato! E' vero? Oh, non è un gioco! E' vero? E' vero? E' vero? E' vero? E' vero? Ok, cool! E' vero? Quali differenza tra questa gialla e questa? Ovviamente! E' vero? 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 10 anni fa? 14 anni fa? E' vero! 14 anni! Con Blink-182 e... Limp Bizkit! E' vero? E' vero, a quel film si è piaciato che le persone tranneva rocker. E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! e credo che si vendessero. Non abbiamo fatto, ma... Sono stati davvero buoni, le persone in Bologna sono stati fissati. Italiano sono a volte violente, si, 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 si si, qui si, si, non, non, più non, se non c'è bene puoi pulirlo e mangiarlo non abbiamo mai visto questo prima è una cosa italiana? sì, esattamente comunque grazie siamo venuti cosa è? è un gamba un banana gamba l'Italia per me è un po' speciale ho studiato italiano per tre anni molto bene a scuola sì la mia famiglia la mia figlia mia figlia viveva in Milano per qualche tempo e per me in scuola che lingua vuoi imparare? l'italiano, ovviamente i miei figli parlano italiano l'italiano l'italiano è sempre stato speciale per me l'italiano è sempre stato speciale l'italiano l'italiano ma l'italiano hanno una storia per me l'italiano è sempre stato speciale l'italiano è bello l'italiano è bello l'italiano è bello e la pizza è bella e la pasta è bella la pasta è al dente l'italiano l'italiano è bello è bello non la pizza è bello l'italiano è bello probabile l'italiano è bello non l'italiano è bello l'italiano è bello oltre l'italiano è bello Come parleremo Wow, questo è meraviglioso! Come puoi mangiarlo? Non, ci prende molti skills Siamo in due posti allo stesso tempo Ma siamo in questo studio È come Ibra O Palotelli Ibra Cadabra Magica Magica è importante in musica Millencoen è magica La musica è magica Quale tipo di magica dovremmo aspettare dal tuo nuovo lavoro? È molto interessante È un mix di Magica È un mix di No, è un mix di pasta e pizza Pasta e pizza Tiago Motta Mixto con Pierlo Tiago Motta, Marco Veratti Potremmo qualche Palotelli Ok Potremmo qualche Casano Non, non, non Non, non, non Sarà Molto solid Ok Qualità Ma Un po' crazy Perfetto Tu scrivi Il tuo Italiano Il tuo Niemal Il tuo Niemal Svega Ma La mia Unica Fondola 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 Chiedi Fondola Fondola Sannol Fondola Quale squadra? Italia! Ballotelli! Ok! Hai detto perché sei in Italia? No, solo perché è il ragazzo del tuo squadro! Guarda, noi amiamo Zlatan! Ok! E PSG? Ok! La parte della squadra! Motta... Verratti... E chi è? La squadra è stata in Italia! Sicilia! E... Maxwell... Tutti hanno stato in Italia! Ok! Quindi... L'Italia è probabilmente una delle squadre che voglio vincere! Ok! Perché hai una buona squadra! È l'Italia, l'Italia... E il tuo ragazzo! Ok! In gruppo! In gruppo! Ok! Cosa è in gruppo? In Italia! Non è sicuro... Costa Rica! Costa Rica! Ah! Non c'è nulla per l'Italia! No! Uno, zero! Si è considerato una collaborazione con un'Italia... o qualcosa... Actor! Act! Noi diciamo... In musica! Non so se lo hai... Giuda! Giuda! Non so se... Giuda! Giuda è una biblica... È una bambina italiana! Sì! Giuda! Sì! Sì! Ok! Quindi se hai qualche ultimo... Non so se... Un saluto ai fatti italiani... o... Qualcun messaggio... Deep messaggio... Check out Giuda! And I always... You need to check out the new album! Yeah! It might happen in the future... We never know! Our album! Our album! Of course! It's gonna be epic! And very, very, very good! Molto epico! Magic! Numero uno! Nice! On the charts in Italy! Uno! Thank you guys! Check it out!